Lasciate che i bambini vivano un sogno ad occhi aperti, luci, colori, angeli e frutta colorata da appendere all'albero di Natale. Per una notte o forse qualcuna in più si potrà costruire un mondo più luminoso, immaginare cose belle e tuffarsi in atmosfera emozzafiato. Queste sono le piccole cose grandi che porteremo nel cuore da adulti per essere un po' più sorridenti, un po' più felici. Stephen Littlewood. Campeggia questa frase sul sito del comune di Castellabate per annunciare che da oggi, 3 dicembre, si aprono ufficialmente le manifestazioni natalizie. La volontà e la voglia di fare piccole cose grandi ha spinto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Rizzo ad addobbare a festa il paese per diffondere l'aria natalizia già dai primi giorni di dicembre. Ricco di eventi e manifestazioni è il calendario natalizio del comune. Proprio in prossimità del Castello dell'Abbate è stato installato un grande albero di Natale mentre le vie del paese sono state addobbate con luci colorate. Saranno proprio queste illuminazioni a prendere vita oggi alle ore 17. Sabato invece alle ore 18 a Santa Maria si procederà all'illuminazione della casa comunale in Piazza Lucia e poi del grande pacco luminoso posto presso Piazzale Punta dell'Inferno come ulteriore simbolo di Natale. Anche le vie del paese Marinaro prenderanno vita grazie alle luci di Natale allestite. L'accensione delle luminarie apre ufficialmente le festività natalizie a Castellabate e sarà solo il primo degli eventi e le manifestazioni che avranno luogo a partire da questa data. Come amministratori del territorio dobbiamo essere i primi a diffondere lo spirito natalizio soprattutto nei più piccoli e dobbiamo farlo proprio per infondere speranza a tutti vista la difficile situazione attuale. Pertanto sono lieto di invitare tutta la cittadinanza, riferisce il sindaco Marco Rizzo.